Un saluto a tutti da Android Blog e benvenuti a questa nuova video recensione. Oggi ci occupiamo di City Quiz, un titolo molto interessante. È un gioco il cui scopo è sostanzialmente quello di indovinare il nome di diverse città con l'aiuto di una foto che rappresenta la città stessa. Ma vediamo come funziona. Nella schermata principale abbiamo due voci, continuare la partita e ripristinare il gioco. Qualora volessimo cancellare i nostri salvataggi. Continuiamo ovviamente la partita. In questo caso abbiamo sei livelli in totale, dal livello 0 al livello 5. Non ne ho completato neanche uno. Clicco sul livello quindi 0 e ci apre una schermata con sei diverse cellule. Ogni cellula ha al suo interno la foto, l'immagine della città che dovremo indovinare. Clicchiamo sulla prima, ovviamente molto famosa, ma soffermiamoci sulla parte alta dello schermo. Abbiamo diversi tasti. Il primo è di informazione, con le varie statistiche di gioco. Abbiamo il tasto del volume. Abbiamo un tasto molto importante, quello di Facebook, con il quale possiamo caricare questa immagine o molte altre su Facebook per chiedere aiuto ai nostri amici. Molto interessante. Infine, anzi, non infine, ma penultimo tasto, è il tasto di suggerimento che cliccandolo ci suggerisce una lettera, dalla prima fino a nove lettere se non sbaglio. Infine abbiamo il tasto della bandiera della nazionalità della città, ovviamente. In questo caso il nome è abbastanza chiaro, è Londra. Clicchiamo Londra e il computer si congratula con noi. Bene, come abbiamo già visto abbiamo sei diversi livelli, un gioco molto interessante, anche divertente, un bel passatempo, anche diciamo istruttivo. Con questa video recensione ho finito. Un saluto a tutti da Android Blog e alla prossima. Ciao!